Ci sono momenti nella tua vita capaci di sorprenderti con emozioni uniche. Il tempo si ferma, il mondo svanisce e il tuo cuore che corre e urla di gioia non c'è nulla di più prezioso perché nei battiti di questi momenti è scritto il significato della tua vita. Mettici il cuore, salviamo ogni battito. Dona con un sms al 45537. Sostieni la fondazione Cuore Domani nella lotta alle malattie cardiovascolari. Grazie a tutti.